L'isola pedonale temporanea estiva resterà e questo non è in discussione, ma ci saranno aggiustamenti che non sono solo relative ai orari, ma rientrano in un discorso molto più ampio sulla vivibilità del centro. L'argomento è stato oggetto di un vertice di maggioranza ieri sera e sembra essersi trovata la quadra. La proposta andrà in delibera a modifica della precedente. Orari che chiaramente vanno messi in nero su bianco, ma questa sembra essere la proposta. Isola in Piazza Duomo dalle 20 feriali, dalle 13 il sabato e la domenica. In via Garibaldi resta dalle 19, nei festivi dalle 13. Ci saranno anche parcheggi con discorario in piazza e in piazza del teatro. Inoltre si metteranno navette anche fino a mezzanotte. Viene proposto di incrementare la sicurezza al termine al commetronotte, ma il discorso è ampio perché la maggioranza ha parlato anche di pulizia e decoro. Ci sarà un discorso da fare con l'SM, mentre una cabina di regia affronterà anche il discorso parcheggi per una ricognizione finale, come spiega il capogruppo di Forza Italia, Giorgio De Matteis, che è stato sempre molto critico verso l'isola per come era concepita. Arrivare dopo un paio di mesi a fare una riunione di maggioranza dove il buonsenso e la valutazione delle cose ha determinato non solo una modifica degli orari, che poi ovviamente tutto questo andrà all'interno di una delibera e per alcuni aspetti e una serie di incontri per altri aspetti. Modifica degli orari, potenziamento del servizio delle navette, controllo della situazione relativamente al parcheggio di Colle Maggio, quindi potenziando la attività dell'ASM in una maniera adeguata per la pulizia delle strade, non soltanto, ma anche dei vicoli del centro storico, naturalmente per ovvi ed evidenti motivi, un controllo più adeguato del sistema territorio, una valutazione attenta di quelle che sono le norme, per esempio un locale di 20 metri quadrati, adesso cito un esempio per capirci, può avere all'esterno il doppio dello spazio per posizionare in maniera adeguata anti-Covid i tavoli e le attività, se questo non viene rispettato è una scorrettezza oltre che una violazione di norme e anche su questo verranno effettuate una serie di attività di controllo, purtroppo doveva essere fatto da questo assessorato in un tempo congruo di questi quattro anni, così non è stato, adesso si rincorre una situazione emergenziale, però devo dire che il buonsenso delle forze di maggioranza è prevalso ieri, al di là di quelle che sono, mi permetto di dire, delle intemperanze di qualcuno o di qualcuna che a volte dovrebbero comprendere che se le decisioni vengono prese non sono le decisioni del singolo assessore, ma le decisioni di una maggioranza che tiene in piedi anche il singolo assessore. Dall'altro canto ci sono i commercianti che ieri hanno fatto sapere di aver raccolto oltre le 250 firme che avevano proposto idee che andassero proprio in questa direzione. Di scorse 20 si cercherà di inserire anche la piazza. Grazie a tutti.